Ciao Fere Oh mamma mia Come stai Fere? Ti posso cavalcare? Mi vuoi cavalcare? Vieni andiamo in giro Fere Ciao Stef! Ciao Fere! 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 Stai bene? Sì certo 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 Fere! Fere! Ma che hai oggi? Ho un calo di zuccheri Non mi sento molto bene Fere ti do qualcosa da mangiare Sì portami una torta Grazie Tieni Ma l'hai capita prima tu Mi hai fatto perdere il cappello Non ci provare Fere Fere Perché tutti i nostri pre-intern Finiscono con noi che ci pestiamo? No Fere Abbracciamoci Vieni E ragazzi come va? Io sono Fere Niki E io sono Stef E questo oggi è che mi ha GTA 5 Ma non sarà il solito GTA 5 Come Fere? Guarda è GTA E vedi c'è il buio C'è la gente C'è Fere che sviene Eccetera 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 Tutto normale no? Stef ha i capelli verdi Mi sembra normalissimo Allora 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 Quest'oggi Siamo in un server moddato Di GTA 5 Che hanno creato Luca Che hanno creato Luca E dei spi giochi Dove abbiamo infinite possibilità La prima è poter venire quando vogliamo Allora Questo Io adesso voglio fare 45 minuti di video Solo così No Fere non possiamo Però aspetta che ti crollo un po' d'osso Aspetta che arrivo anch'io No Fere Arrivo Basta 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 Rialziamoci Facciamo le persone Spieghiamo che cos'è questo server Allora In questo server Noi abbiamo i cheat Abbiamo la possibilità di entrare dentro i posti interni di GTA Single player Dove online di solito non può entrare Abbiamo la possibilità di mettere alcune mod Non tutte Eccetera eccetera Quindi abbiamo tante 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 possibilità In pratica abbiamo le possibilità del single player E di più Ringraziate mi raccomando Espi giochi e Luca Che c'è stato un lavoraccio per creare questo server E grazie a loro possiamo giocarci pure noi Quest'oggi come sfrutteremo il server Vi facciamo vedere un po' di cose divertenti Facciamo quel che si può fare Vi facciamo vedere all'interno di uno o due posti Dove vogliamo fare dei nascondini con Espi e Luca Esatto Così ci fanno anche sapere E ci divertiamo un pochettino Se piace Esattamente Allora dove andiamo come prima cosa? Il primo si può fare Davvero? Sì 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 Scusi macchina Dai vieni qua Preferivo quella alta Però dai va bene anche questa Va bene va bene va bene No sta arrivando sta arrivando sta arrivando Allora il primo si può fare Ok è Sì sì Riesci di investirmi se io mi corico a terra tramite lo suonimento Vai dritta vai dritta Ok buttati Vai Vado Vai Fede Vado Vado Oh mio Dio funziona Cos'è successo? Non mi hai preso Non ti ho preso vero? Esatto è quello Avevo il dubbio di non averti preso Perché sinceramente quando investi un player Senti la macchina che sballonzola quando prendi un player Vai cerca di centrare bene Niente Niente È bellissimo Non ti prendo Allora vieni qua Vieni qua Vieni qui dietro Facciamo corri in corsa Il gigante Esatto Quindi vai in fondo Vai in fondo Più in fondo possibile che puoi E io ti prendo Va bene Fere Vai Mi sto divertendo Questa prima cosa è bellissima È già fantastica È già fantastica Se ci fosse questa cosa nel GTA normale Potresti schivare i player che cercano di investirti Buttandoti a terra Sarebbe super divertente Quindi Rockstar mettete queste cose per favore Allora Fere sei pronta? Sì ti vedo lì giù Vado Vado Vai Vieni Sono sto No no Fere Ok sono collastato nel modo giusto Centralizza bene Vai 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 Fa una paura incredibile eh Per carità Quando passi muoio dalla paura Però Aia Fere Mi hai schiacciato le gambe Fere Aia Adesso sì che ti prendo Mi hai ucciso Fere Ciao Ciao Fere Sei un gattino Sì Fere Ti posso raccogliere Non credo Fere Cioè se premo un testo ti do un calcio vero? Eh penso di sì No no voglio dare un calcio un povero Vieni qua Vieni qua che se no ti investono le macchine Arriva Fere Sono un po' lento Eccomi No corri corri Oh che bello Sei uguale al nostro gatto Che bello che sei Aspetta aspetta Devo fare una cosa per vederti meglio Vieni qua Vieni qua così ti vedo meglio Arrivo Fere Ti salgo sopra Ok 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 Che bellino che sei Oh mio dio Ciao Fere Com'è essere un gatto? Racconta È un po' lento E poi un po' cicciottino Mi è capitato come gatto Non andare sotto le macchine Tranquilla guarda Ci posso passare sotto Vediamo Ma l'hai fatto tu? Sì Oh mio dio Ti stai grattando Le macchine ti schivano comunque È interessante anche questo Beh è un povero gattino Chi è che lo vorrebbe schiacciare? Che bellino Fere ho un po' di prurito Rimani per sempre gatto Almeno così sei bello No Fere dai E almeno così mi fa piacere averti vicino Aspetta Dammi un attimo e mi trasformo su un altro animale carinissimo Ok Allora chiudo gli occhi Mi giro qua Sì girati là Vai Vai Ciao Fere Oh mamma mia Come stai Fere? Ti posso cavalcare? Ti puoi cavalcare? Vieni andiamo in giro Fere No non si può Guarda come corro Fere Sei più varace del gatto però Fere Puoi dare le testate alle macchine? E perché puoi cosa sei? Un cinghiale giusto? Sì esatto Proprio un cinghiale E i cinghiali sono forti con le testate Farei buttare giù anche una macchina Vediamo se sono così tanto forte Anche se non credo Scusi macchina le posso dare? Puoi dare proprio le testate Vedi che è la cosa più bella Oh mio dio Io so che tu sei traumatizzata dai cinghiali giganti No Ah vabbè l'avevo già raccontata Esatto La storia cerco di non ripetermi Esatto Grazie Comunque non erano giganti Erano così Facevano porre Comunque ci si può trasformare anche negli animali In questo gioco si potrebbe fare anche una serie Di solo animali che vanno in giro per GTA Giusto per dire Per farvi capire un po' di potenzialità Adesso Farei torna qua E proviamo altre cose fantastiche E dopo avervi fatto vedere un po' di cosette interessanti Adesso si esplorano le location Perché sì possiamo entrare nei posti all'interno E goderci tutto Guarda come cammino veloce Mi sono impostato la camminata rapida Oh no Allora E se corro Io ci tengo a dire una cosa Era anche ora che mi facessero entrare negli uffici dell'FBI Ma non ci fai proprio nulla Farei Ho dimostrato più di una volta di meritarmelo Di avere il comando di questa città Quindi mi sembrava anche giusto Ecco salve Centizio che lavora però Centizio? Salve Ma davvero pensavo fosse Buongiorno Fere È il mio ufficio Fere l'hai Buggato tantissimo Siamo svenuti tutti e due Guardami Scusa ma questo era il mio ufficio Vabbè me ne scelgo un altro Vabbè Ma io volevo soltanto far vedere un po' il posto Non mi rovinare tutto Ecco il mio ufficio Siediti Sveni sulla scrivania Fai felice tutti Questo è il mio ufficio Perfetto Grazie io ti lascio qua Ciao Non mi ricordo come si va negli altri piani Quindi c'è solo una cosa da fare Spostati Fere Corri via Corri via Corri via Perché devi far esplodere tutto? Perché voglio vedere cosa può esplodere Cosa può non esplodere Secondo me Pochissime cose esplodono Dato che sono zone che non possiamo esplorare normalmente Eh sì infatti Infatti se notti le sedie si muovono Ma le scrivanie sono fatte di cemento armato Giustamente Come pensavo Non dovremmo essere qui Fere non sto bene Mi porti in ospedale Sì certo Siamo qui davanti Fere aiutami Siamo Allora non ti posso prendere in braccio Cammino piano piano però Ogni tanto ricro Oh che male Alzati in piedi ed entra Su Bene Allora le scale sono faticosissime Bene Entriamo in ospedale Veloce veloce Prima che ricrolli Oh Non ce la puoi fare Tranquilla Ce la puoi fare Ok ok Sono crollato Sei svenuto Non ce la puoi più Meno male Meno male C'è qualcuno Scusate Scusate ho bisogno di essere curato urgentemente Allora vieni qua Vieni Fere ma è vuoto Qua ti devi mettere Fere ci pensi tu Sì qua ti devi mettere Ma sei adatta? Qui sopra Sì certo Guarda Ok Questa lastra L'ho fatta io Questa qui Ok Non mi sembra molto bella Però aspetta che Io provo a mettermi Guarda come sono crollato all'improvviso Ecco qua Ecco qua Fatta Vedi ho messo questo sopra di te Lo faccio Sì sì Grazie Fere grazie Sei benissimo Non hai niente Quindi muoviti Esploriamo questo bellissimo ospedale Comunque A parte le semenze Questo qui è un ospedale Dove si può entrare E dove vogliamo fare un nascondino Appunto con Espi e Luca Quindi nei commenti potete già impazzire Perché sì Sarà totalmente epico Come siamo impazziti noi La prima volta che l'abbiamo visto Esatto esatto È bellissimo Adesso vi facciamo vedere un pochino tutto Allora Qui c'è appunto la hall Con un po' di lettini Eccetera eccetera Dopodiché da qua si va E ovviamente io non mi so orientare In questo posto Allora io lo so Vieni qua Vieni qua L'ho esplorato bene Vieni qua Ok Vieni qua Saliamo le scale Esatto Ok e poi Fere Allora questo è solo un pieno di intermezzo In cui poi dobbiamo prendere Ecco qua Le scale per l'ultimo pieno Ma la sei proprio a memoria Ormai questo posto Sì sì L'ho esplorato bene Molto meglio di te A quanto pare Bravissima Bravissima Ok ti supero un po' Perché sei lentina Eh sì tu sei più veloce Sei più veloce Allora e qui che cosa c'è? L'ultimo piano L'ultimo piano esatto È composto di tre piani Che poi sarebbero due Perché appunto quello di mezzo È solo per prendere le scale Per il piano dopo Ok E anche qui ci sono tantissime cose Guarda guarda Vieni 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 che guardiamo tutto Vieni qua Guarda questi sono gli uffici Ma che belli gli uffici Sì gli uffici Molto molto Super giganti E guarda anche qua Le super sale Allora questi non so bene A cosa servono Perché aggeggi strani Ah ecco mio Arrivo Ti avevo persa Vieni vieni Sono qui dentro Ok sì Vieni questi aggeggi Allora Secondo me questi sono Per più Sembrano per spaccare le gambe Aiuto Sembrano più cose di ricerca Piuttosto che cose Per curare No vedi questa cosa rossa Questo è Spacca gambe No per temperare le matite No non è proprio così Non è proprio così Fede Che hai combinato Ho avvocato un aeroplano Eh ma perché qua c'è uno Che brucia Eh vabbè Ogni avvocato Stavo cercando quello giusto Ti piace? Ci sono le macchine Che lo spingono Vieni Fere vieni dentro Dai Ma si può entrare? Certo Oh mio dio Certo Fere Oh mio dio che bello Vieni Metti prima persona Ok Oh mio dio Si vede proprio l'aeroplano Ciao Fere Oh che bello Aspetta che mi dico Allora Che brutto che sei Mamma mia Grazie Fere Era meglio non vedere Non ho mai guidato Un aeroplano del genere E diciamo che partire Da qua non dà una mano Ok No assolutamente Sono arrivati anche i pompieri Ciao pompieri Dateci una mano Siamo un po' incastrati A forse l'ho anche già rotto Ma no Vedi che sta bruciando Qui va molto meglio Sei pronta Fere Però hai spaccato tutti i vetri Non è vero Dai vai Vediamo se riusciamo a farlo decollare Una volta per tutte Pronta Vai 3 2 1 Vuuu Ce la stiamo facendo Guardate che meraviglia Ma che bello Ma che bello Allora Non so se già vi vengono in mente I due miliardi di si può fare Che si possono fare Esatto Quello che volevo dire Anche io Teoricamente possiamo far spawnare Anche i dirigibili Se ricordo bene Che sarebbe interessante Anche quello Ho fatto in posto Da fare una cosa Che teoricamente Non la fa più cadere dei veicoli E quando ci sta sopra Quindi teoricamente Sì 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 Ma dai Ma quanto è bella Questa cosa Ma quanto è bello Queste sono tutte cose Che poi ci hanno sempre chiesto I consolini di provare a stare Sui vari veicoli Adesso si può fare pure Si è caduta Vabbè Dai Per un po' Allora Vabbè No intendiamoci Non la fa cadere All'indietro Per la velocità Quindi a livello fisico Però se io mi muovo Sì Adesso la prima Puoi care Quindi dovrebbe Contromuoversi Per stare sopra Però ci stava Altra cosa Super divertente Allora direi di provare Le ultime due cosette E poi ci fermiamo Perché non voglio spoilerare Tutto quello che possiamo fare In questo server Mi sembra giusto Fare con calma E soprattutto fare anche In compagnia di Espie e Luca Dato che il server Comunque lo hanno sistemato loro Fere Dimmi Vuoi fare una gara? Certo Ok 3 2 1 Via Ciao Fere Cosa hai combinato? Ciao Fere Cosa hai combinato? Ci vediamo dopo Ti ho visto volare da qui Oh Volevi fargli start Con la macchina Fere non riesco a fermarmi Per aiuto Allora raggiungimi Raggiungimi Ok Mi sono fermato Mi sono fermato A quanto hai messo la velocità? E tipo infinita Non fa Dove sei? Eh molto indietro Arriva Arriva piano piano Aspetta Ah sì questo Ok sali da me Sali e preparati mentalmente Oh mio Dio È davvero pericoloso Allora Qua io sto premendo pochissimo Cioè dovrei andare a 20 all'ora E guarda quanto è veloce Ok Pronta? Vai Fere Ora sì che è una macchina che corre Dai Ci sta Oh mio Dio Cioè guarda È ingestibile Guarda E va sempre a finire così Va sempre a finire in acqua Ho scelto un look super futuristico Ma che bella questa macchina Fatta apposta Allora Questa volta provo a stare drittissimo Per vedere la velocità massima Che riusciamo a raggiungere Prima di morire Vai 3 2 1 Andiamo Vai 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 Ok Pensa con una rampa Pensa con una rampa Ci possiamo fare di tutto Voleremo oltre la mappa Vai Aiuto E ancora voliamo Cioè senza una rampa Siamo arrivati così lontano Cioè guardate dov'è l'aeroporto Mamma mia Voglio troppo una rampa No è bellissimo Bellissimo Comunque direi che ci possiamo fermare così per questo video Perché non vi vogliamo far vedere tutto il potenziale E soprattutto non sappiamo usare certe cose Perché sono un po' complicate Esatto Proprio per essere sinceri Speriamo che il video vi sia piaciuto Nei commenti iniziate a proporci un po' di si può fare simpatici Ovviamente fateci sapere se volete vedere Del nascondino e degli altri challenge E cose varie in questo server Esatto Siete felici che ci sia appunto un server modato Nel nostro canale E ci fermiamo così Beh ragazzi Se vi piace così Se siete tutti Sentiteci un like E' questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi di altri episodi Ciao e alla prossima Ciao ciao